buongiorno a tutti oggi siamo a lugano per mostrarvi questo tre e mezzo locali siamo al piano terra di questa palazzina e come potete notare abbiamo una vista lago veramente incredibile entrando all'interno dell'appartamento veniamo subito accolti da questo corridoio e immediatamente a destra abbiamo un armadio muro molto comodo e molto spazioso proseguendo all'interno del corridoio abbiamo queste due porte che ci portano subito a destra nel bagno composto di pc bidet doppio lavabo specchiera e doccia frontalmente al bagno abbiamo la prima stanza e proseguendo entriamo nel soggiorno e nell'area dedicata alla cucina una cucina molto ampia e fornita di tutti gli elettrodomestici come potete notare la cucina è composta di frigorifero congelatore microonde forno lavabo lavastoviglie piano a cottura a induzio dietro alla cucina come potete notare abbiamo la seconda stanza che rimane molto ampia e molto luminosa ritorniamo nel soggiorno dettaglio molto interessante frontalmente abbiamo un armadio muro a scomparsa molto grande se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 0041 91 921 24 28 ti affitto ti affitto